Dobbiamo portarla a tavola, porti tu? Dai mi fido di te, ok Bene amore, prendile bene, ok, brava patata, ma quanto sei forte Oh mio Dio, vedo malissimo queste pizze, oh mio Dio, oh mio Dio No no ma le sta portando, oh mio Dio, vai 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 amore, vai vai Oh mio Dio, ma tu sei forte, aspetta eh, prendo questa, oh oh, va bene, va bene Oh mio Dio, da mio 5 amore, ma tu sei Hulk, grande O esco io e sconfiggio la mamma, ok, o esco io e sconfiggio la mamma, una scoreggiona da solo O usciamo tutti insieme come una squadra e la sconfiggiamo insieme Sì, una squadra Insieme? Ok, squadra anti, anti mamma scoreggiona E' la mamma scorgiona E' la mamma scorgiona E' la mamma scorgiona Ma cosa stai facendo tu? E' la mamma scorgiona E' la mamma scorgiona E' la mamma scorgiona E' la mamma scorgiona Olè 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 Ecco qua il tuo dentifrice amore ottimo buona lavata di denti questa è cacca dentifricio per i denti è la mati è la mati amore è la mati che fa la cacca sul tuo spazzolino hai visto che bella vai Yoda dacci un po' di dentifricio prego ciao Yaya ciao guys stamattina faccio sconvolta sto andando più la testa sono super in ritardo volevo portare i bambini a dicembre in Lapponia perché Vittoria proprio sogna di incontrare Babbo Natale al secondo posto dopo Elsa però mi sa che con l'agenda e così non ce la facciamo ci sono altri villaggi di Natale magari in Italia magari vicino a Milano sarebbe fantastico o in Europa carini in cui loro potrebbero incontrare Babbo Natale ma ci sono anche altre attività da fare natalizie cioè voi che conoscete ci siete stati che valgano la pena no dove la fai fazzarella attenta attenta è matta ma cosa ha fatto è saltata sopra di te amore ma che stai fuggendo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti